GF Vip, Antonino Spinalbese difende Antonella e Edoardo resta in silenzio la scena surreale. Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha difeso Antonella Fiordelisi dalle critiche ricevute, mettendole a confronto con l'atteggiamento generale nei confronti degli altri coinquilini della casa. In particolare, l'airstilist ha espresso il suo disappunto per il fatto che Antonella venga giudicata da cinque mesi. Mentre altri non vengono mai criticati per comportamenti simili o peggiori, la reazione dei telespettatori è stata immediata. Con molte persone che hanno notato la stranezza della situazione, ovvero che sia Antonino a difendere Antonella davanti ad Edoardo. Che sembrava privo di qualsiasi voglia di intervenire nella discussione. FotoCredits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and demolition Italy, Music, Mose from Bensund. Come leggi anche, Edoardo mette in cattiva luce Antonella con Tavassi e Luca, le parole predette dalla fidanzata e perché restano ancora insieme. Grazie. 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 Grazie.